vediamo come si cercano nell'opac bicocca in subria gli articoli di riviste vado nel sito della biblioteca e seleziono il catalogo online opac andiamo a cercare la citazione in sovrimpressione si riferisce a un articolo nel catalogo non sono indicati i titoli dei singoli articoli ma solo il titolo della rivista stessa in questo caso il titolo della rivista è italian journal of pediatrics scrivo il nome della rivista e lancio la ricerca col vai abbiamo trovato la rivista che cercavamo seleziono bicocca medicina per vedere se c'è l'annata che cerco il nostro articolo è del 2010 mentre la biblioteca possiede in versione cartacea dal 2002 al 2006 gli articoli per centi si trovano soprattutto nella versione elettronica che vedremo nella sezione come cercare in riviste libri elettronici nella colonna descrizione trovi le annate disponibili e l'indicazione di eventuali fascicoli mancanti l'acca un'attima 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 Grazie a tutti.